Inizia il secondo tempo con il risultato di Cereale 1 vai a 0, rete di amanti al 45esimo del primo tempo. Il risultato di Cereale 1 vai a 0, rete di amanti al 45esimo del primo tempo. Il risultato di Cereale 1, rete di amanti al 45esimo del primo tempo. Il risultato di Cereale 1 vai a 0, rete di amanti al 45esimo del primo tempo. Il risultato di Cereale 1 vai a 0, rete di amanti al 45esimo del primo tempo. Il risultato di Cereale 1 vai a 0, rete di amanti al 45esimo del primo tempo. Cereale 1 vai a 0, rete di amanti al 45esimo del primo tempo. Il risultato di Cereale 1 vai a 0, rete di amanti al 45esimo del primo tempo. Il risultato di Cereale 1 vai a 0, rete di amanti al 45esimo del primo tempo. Grande Pampa! Grande Pampa! Grande Pampa! 2-0 Allee! Allee! Che ha che ha segnato! Che ha numero 4! Come cechiamo la numero 4?! E cuoi? Queste! E cuoi? Queste! Forza Argentina! Forza! Andere! E cuoi? E cuoi? Bene, Pablo, bene! Vale! E' il che sape, dale, dale! Dai, Paul! E' il che c'è? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. C'è ancora una? Sì, sì, due e due e basta, sì, poi c'è la sosta. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. No, 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 stavolta no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.